olele anzi no con sti capelli potrei cantare mi stappai una fanta sembro un panda nonostante ebbi ronfato all'incirca cinque ore pomeriggio stavo montando su un ciondolino particolare mi sono rimasti i pezzi qua non ce la posso farcela sto scoppiata oggi proprio giornatina da massacro e c'è io pure di nuovo sonno but lady ghost e lady sadako salutano io mi pare le belle pulci or dunque questo video qua l'ho in titolo è il mio solito appunto per non dimenticarmi il titolo quando mi viene in mente un bel titolo a effetto di quelli che attirano l'attenzione l'ho in titolo ce lo mostrano per come lo possiamo capire un titolo che ci vuole la tre cani per scriverlo poi ci devo mettere pure la traduzione in giapponese verranno 15 righe di titolo ma fa lo stesso perché? perché l'ho detto tante volte ma come sapete ho capelli, peli, gatto, peli di figlio, peli di tutto in giro come dico sempre ma non ho mai fatto il video mirato su questa discussione tutto ciò che ci viene mostrato nel mondo dell'invisibile, nel mondo dell'occulto, nel mondo dell'esoterismo ma anche nel mondo di tutti i giorni ci viene mostrato nel solo modo con il quale possiamo comprenderlo perché faccio questo video e questo appunto? perché continuamente in giro per 18.000 gruppi in forum commenti sui video, commenti in giro commenti nei gruppi dove sono utente commenti nei gruppi dove sono amministratore e chi più ne ha più ne metta c'è sempre il personaggio di turno che fa la stessa osservazione quando si parla che ne so di un discorso per esempio religioso e io normalmente sottolineo che sono atea e mi dicono e ma allora padre pio cosa vedeva e ma allora natuzza evolo cosa vedeva e ma allora ave gente medigore che vede ora esaminando caso per caso ci sarebbe da parlare fino a natale 2027 di ogni singolo personaggio ne ho presi tre ad esempio tanto per ave gente di medigore persino la chiesa la considera una merita truffatrice e voglio dire e già la chiesa sa di suo cosa significa truffare quindi lasciamola proprio dove sta lei e i suoi seguaci natuzza evolo ho sempre nutrito forti dubbi su quella signora non con cattive intenzioni ma probabilmente con problemi suoi e estremamente psicologici più che altro parlerò forse in qualche video di storia del paranormale anche delle mie opinioni sulla signora natuzza con tutto il benvolere che possa averci messo nelle sue credenze per quanto riguarda pio come ho già spiegato in altri video pio vedeva tanto ma era appunto la sua mentalità cattocristiana a fargli credere che ciò che vedeva era quello che lui pensava perché intanto perché la medianità essere medium medium significa che vedete le entità che vedete oltre che vedete poi c'è la medianità uditiva e via dicendo ma la medianità ha talmente tante diramazioni che ci sono persone che la medianità la vedono soltanto ma magari non sentono e quindi non ci possono fare quattro chiacchiere con il defunto o con l'entità che vedono o al contrario sentono però non vedono nulla quindi una parte di ciò che vedono che avvertono o che sentono è dettata meramente e unicamente solo dalla loro mentalità se io sento una voce adesso sono qua al pc apro la finestra magari perché sto fumando in camera in stanza in questa stanzetta e mentre apro la finestra sento urlare mamma e basta mi affaccio ma non vedo niente la mia mente comincia a formulare diverse ipotesi un bambino che è caduto e si è fatto malissimo e sta cercando la mamma un bambino che sta venendo rapito un bambino che sta venendo menato un bambino che sta facendo i capricci poi magari non è manco un bambino ma è una signora con la voce bassissima perché è rauca e sta urlando piano piano mamma perché magari la mamma anziana è sbattuta in terra e invece si sta sentendo male le casualità di ciò che potrebbe essere quello che io sto sentendo sono infinite può anche essere una persona adulta o bambina schizofrenica che urla mamma così ad cazzum per la strada può essere un film che sta guardando un vicino ad altissimo volume può essere qualsiasi cosa sono io che poi mi faccio delle ipotesi e il mondo della medianità non è diverso quando un medium per esempio un medium solo visivo vede un essere strano con tre occhi con due nasi o senza naso senza bocca o con la bocca con gli occhi lunghi neri pelato stile grigio come vengono descritti i grigi o vede una damina del settecento camminare o vede qualsiasi altra cosa un essere capride con gli zoccoli le gambe a zoccoli il corpo umano la faccia da uomo e le corna e poi la sua cultura personale che gli fa dire ho visto questa cosa un cristiano che vede uno con gli zoccoli il petto nudo e le corna d'ariete dirà ho visto un diavolo un islamico dirà che ha visto shaitan se lo vedo io dico ho visto un fauno o un satiro ma in generale ho visto un'entità che ha quella forma ma non si è fermata a dirti ciccio guarda che sei un diavolo cerillo guarda che i am the shaitan quindi il fatto che sia un diavolo o che sia un satiro o che sia un fauno o che sia un essere di un altro pianeta o che sia il fantasma di un capride della razza capridina che sono nascosti nel mondo o che sia qualsiasi altra cosa è una mia personale congettura quindi una visione di un uomo estremamente cristiano e cattolico che vede esseri strani perché alla vista medianica ma che ha una cultura e un'indottrinazione in una religione che ti dice che se vedi gente con la faccia brutta sono persone cattive sono demoni al servizio del satana e quant'altro quel poveraccio crederà di aver visto i demoni al servizio di satana e quando te lo dirà ti dirà quello ma lo vediamo sempre nei social nei social quando guardiamo nei gruppi paranormali o che guardiamo delle foto per esempio dove ci sono delle entità o ci sono a volte delle pari ed olie quindi non sono entità ma sono effetti ottici e magari c'è qualche faccina strana un po' un po' così lo so io faccio le facce strane ma perché tanto di fighe su internet ce ne sono già tante a me non interessa fare la figa mi interessa che ascoltate quello che dico non che guardate le mie espressioni e puntualmente anche lì c'è sempre il genio di turno che mi sembra un demone ma poraccio ma perché il demone deve essere un cesso a pedali a prescindere che persino le religioni abramitiche che io proprio scanso come la peste persino loro dicono che quelli che si sono demonizzati come lucifero come samael come altri che un tempo secondo loro erano pennuti che lì però non sbagliano perché comunque la razza è la stessa sono loro che poi hanno fatto la divisione di buoni e cattivi che non ci sono di là ma se la sono inventata loro la divisione però la razza è la stessa hanno ragione sul fatto che è la stessa e hanno sempre dichiarato che erano bellissimi il diavoletto ha disegnato cui cornuzia a coda punta così come anche l'angioletto con le ali più mate che tutte le volte che c'è una nuvoletta che fa una parietolia che sembra un pennuto c'è sempre anche lì il genio di turno mi sembra un angelo mi sembra un angelo caduto dal cielo gli angeli non hanno le ali e le piume fatevene la ragione i diavoli non hanno le corna i demoni non hanno le corna e la coda punta i diavoli non esistono proprio o meglio sono tutta altra cosa l'ho spiegato in un altro video ma quelle sono raffigurazioni inventate nel medioevo quindi si parla di 5, 6, 700 anni fa inventate dall'arte per dare una configurazione differente far capire meglio ciò che la religione monotevista cattocristiana romana intendeva con buono e cattivo ma è una mera invenzione tanto per cominciare dalla chiesa stessa che si è inventata il buono e il cattivo che non c'è sta e poi l'invenzione ha perpetrato perpetrato con le raffigurazioni più calcate le pennuzze l'abito celeste l'aureo per il buono e gli occhi gialli oppure neri i curnuzzi a pelle rossa oppure a squame o di fango per i cattivi ma son cagate e oltretutto quando voi dite ho visto un angelo perché avete visto l'angioletto del presepe state facendo una figura pessima a livello culturale è meglio che non parlate perché se niente qualcuno ha studiato un pochettino teologia prende il martello e si fracassa le palle come quello che c'era sulle 50 lire italiane di un tempo ammazzate però anche in questo caso quella fantomatica raffigurazione inventata dall'arte cristiana io ho un pelo da qualche parte sicuramente o di tatino o di salcicia ma non riesco a toglierlo è servita allo scopo della chiesa cristiana per far entrare nella testa dei suoi fedeli il concetto che gli voleva inculcare quindi e alla fine il discorso è lo stesso anche nella realtà dell'irreale cioè anche nella verità del mondo invisibile le entità stesse che non hanno interesse di predominio perché da quella parte non c'è il dio cristiano buddha allà che dicono no devono devono invocare me no guarda guarda quello la sta dicendo buddha tocca a me no alle entità elevate che non sono dei ma sono entità elevate della quinta della sesta dimensione e via dicendo che per un qualche motivo hanno uno scopo ben preciso a dirvi o farvi fare qualcosa a chiunque e decidono in qualche modo di apparirgli di arrivare in visione di arrivare in sogno e mille altri modi ci andranno come quella persona li può comprendere questo significa che l'entità elevata che non è dio non è la madonna non è cristo non è alla non è maometto non è buddha non è shirmama non è khali non è prakmani e nessun'altra divinità conosciuta sul pianeta terra e neanche sugli altri pianeti se te deve far fare una cosa se sei induista ti appare come shiva se sei cristiano ti appare come amaron se sei islamico arriva maometto dove lo metto dove lo metto non si sa perchè a lui non gliene frega niente a quell'entità non gliene frega un'emerita mazza che tu lo chiami demone che tu lo chiami angelo che tu lo chiami cristo che tu lo chiami maometto che tu lo chiami siddharta o che tu lo chiami giacomino panevino a lui o a lei che sia sono assessuate le entità come le anime non gliene frega nulla di conseguenza a loro interessa che tu fai quella determinata cosa puoi farla in nome del cristo puoi farla in nome di allah puoi farla in nome di satana puoi farla in nome di buddha non gliene può fregare cadde meno sono nomi inventati dalla razza umana terrestre quindi a loro non gliene frega un tubo io insegno qualcuno di voi lo sa informatica all'università della terza età dell'alto maceratese e quindi ho delle classi di signore e signori over 60 per lo più dei 60 anni in su che fanno questi corsi dell'università della terza età di vari settori tra i quali anche l'informatica che è quella che insegno io informatica e telefonia ultimamente negli ultimi anni più telefonia che informatica perché è più di interesse visto che comunque il telefono lo usano praticamente tutti invece quando iniziai a fare queste lezioni era più pc perché all'epoca si utilizzava ancora molto di più il computer io sono rimasta vecchia e uso il computer perché ho i telefonini io li uso per i giochini per le cam questo l'ho comprato apposta per la cam bella e per fare i video fine non ci tengo messaggistiche non me ne frega la mazza di messaggiare non dico sempre di non scrivermi in privato perché tanto non ho il tempo materiale di mettermi a rispondere se avete delle domande me le dovete fare nei commenti fuori nei gruppi sotto ai video nel mio account sulle mie pagine va bene tutto ma lì publish se è una cosa estremamente personale mi chiedete sull'account sull'account o qua sotto al video posso scriverti io so che mi scrivi per una questione importante non per vedere se in giardino era passato un fantasma lì puoi fare un post puoi mettere la foto pubblica non c'è bisogno che me lo mandi in privato perché io non ho tempo di leggermi 10.000 privati e fare analisi per la curiosità di sapere se c'era un fantasma che passeggiava da quelle parti non ho neanche il tempo di rifarmi la tinta cioè parliamone figuriamoci se mi metto a fare mezz'ora 40 minuti per curiosità analisi sulle foto non ce la posso fare abbiate pazienza ma non ci riuscirei mai e come dicevo insegnando l'informatica quando ho delle alunne o degli alunni dico alunne perché di solito sono più le signore che vengono a questi corsi i signori ne ho qualcuno ma pochi sono più le donne che vengono a questi corsi anche per passare un po' di tempo insieme e io a volte porto degli esempi per fargli comprendere il concetto che sono molto terra terra ma soprattutto sono esempi che una signora magari di casa una casalinga classica di una volta perché se adesso c'ha 60 70 80 anni è ancora della vecchia guardia può comprendere quando gli spiego che cosa sono le cartelle e i file io gli dico che le cartelle sono praticamente come i loro mobili di casa e che i file sono gli oggetti che loro mettono dentro ai cassetti i file sono le foto a casa le foto dove le tieni negli album dentro a un mobile nel computer il computer è casa tua tu metti le tue foto i tuoi album nelle cartelle che sono i tuoi mobili quando spiego come fare la pulizia dell'hard disk e perché farlo spiego che gli aggiornamenti sono fondamentali ma che se il contesto della memoria del computer o del telefono è troppo pieno di spazzatura gli aggiornamenti nuovi non entrano quindi è obbligatorio fare la pulizia allora quando mi dicono ma in che senso fare la pulizia gli dico guarda te lo spiego a parole povere tu vai a fare la spesa tutti i mesi e tutti i mesi fai la spesa grossa di casa arrivi a casa mangi la roba che hai comprato la metti nel frigo la metti nello sportello la metti dove però poi le confezioni vuote ora qua non ne ho combinazione ma le confezioni vuote il pacchetto di sigarette finito la carta della tortina che che sia le cicche usate ora qua non ho altro come spazzatura ma tanto per farci capire non le butti mai tu finisci il pacchetto di sigarette il pacchetto lo lasci qua poi ne prendi in altro il pacchetto lo lasci qua poi ne pigli in altro ancora mangi finisci la scatola di pasta e la scatola di cartone la lasci lì fai il sugo e la bottiglia di vetro la lasci lì non butti mai via niente continuando però tutti i mesi a fare la spesa perché tu mangi fumi ti lavi e quant'altro arrivi a un certo punto che in casa non ci entri più né tu né la spesa perché è stracolma di spazzatura quindi è una spazzatura indiretta tu non sei andato a comprare della spazzatura e l'hai messa lì in casa tu hai comprato degli oggetti che hai usato hai fatto entrare in casa per usarli e quelle sono le scorie la spazzatura sono gli involucri gli avanzi con la pulizia dell'hard disk che è la stessa cosa dico alle mie vecchiette alle mie signore dico non siete voi perché a volte alcuni mi dicono ma io non ci faccio niente col computer apro soltanto facebook sì è vero ma gli aggiornamenti entrano per obbligo appena usciti gli aggiornamenti lasciano scorie lasciano dei ghost dei fantasmi che però in questo caso non sono quelli paranormali lasciano gli involucri le cartacce l'aggiornamento si va a sistemare ma lascia della spazzatura arriva l'altro aggiornamento si sistema ma lascia della spazzatura non sei tu che stai facendo spazzatura ma è il fatto stesso che l'apparecchiatura entra in internet che la fa ma poi te la devi andare a pulire a mano perché se ce n'hai troppa io ho pulito dei pc che avevano 28-30 giga di spazzatura ma robe che altro che manco l'aggiornamento di tre anni prima era ancora entrato e quindi insegno a pulire l'hard disk insegno a entrare su facebook insegno a creare un account dico sempre che le password sono le chiavi di casa quando voi create una password non potete crearla a katsum tanto per entrare subito sul social e poi chi si è visto si è visto magari avete messo 75.chiocciola it cioè perché poi non ve la ricorderete mai dovete creare una password che vi ricordate e scriverla materialmente a mano dietro al calendario sopra la bibbia sopra al libro che tenete sul comodino sul muro va bene anche sul muro basta che la scrivete da qualche parte se perdete la password e non c'è modo per recuperarla cioè non avete sistemato le possibilità di recupero voi in quella pagina in quell'account non ci potete più entrare ho visto gente creare un nuovo account con suo nome e cognome e poi dirmi ma non ci sono più le mie foto le mie cose grazie al cavolo sei entrato in un'altra casa non è che sei entrato a casa tua ma il nome è lo stesso ma il nome non gliene frega niente ma hai un'idea di quanta gente abbia il tuo stesso nome al mondo non è che tutti quelli che hanno il tuo nome possono entrare nella tua pagina e quindi spiego anche lì che la password è la chiave di casa questo per farmi comprendere meglio appunto da queste persone che comunque non hanno delle basi tecniche per poter parlare con loro con un linguaggio tecnico se io gli parlo solamente di password di keyboard di mouse se gli chiedo se gli dico che la RAM quando è troppo carica non fa più girare i file e quindi ci vuole una pulizia della RAM è un defrag per poter risistemare l'ordine dei cluster all'interno dell'hard disk in modo che le ricerche del sistema operativo stesso risultino più fluide il 100% delle mie signore anziane di paese non capisce una merita mazza di quello che io gli sto spiegando col discorso delle entità elevate è la stessa identica cosa se apparissero di fronte a voi con la loro forma pseudo originale a parte che il cervello umano nemmeno riuscirebbe a comprenderla ma poi ogni cultura li prenderebbe in maniera diversa un nemico un diavolo un alieno un'entità malvagia c'è gente che dice mi sembra malvagio perché nella foto magari vedono uno che sta urlando ma sul discorso delle foto delle facce nelle foto farò un altro video ma anche lì basterebbe solo un po' di ragionamento come si deve accendendo il cervello invece che ripetere a pappagallo le cavolate che dicono altri sui social e lo stesso discorso vale per questo discorso per questa tematica qua se io sono un'entità elevata e voglio che tu dimostri di vedermi perché ti voglio portare a fare un certo percorso se tu mi capisci meglio se io ti appaio con il manto azzurro e le stalline intorno e magari con il cuoretto dietro che canta osanna e osanna e osanna cristo signor appaio così chi se ne frega non gli frega una mazza a quell'entità di come la chiami gli interessa che se tu la vedi fai un determinato percorso tutto lì questo è il senso del della risposta che ora utilizzerò con copia e incolla di questo link ogni qualvolta ci sarà il genio di turno che dirà e ma allora i pastorelli e ma allora appunto Pio e ma allora Natuzza Evolo e ma allora quell'altro che ha dichiarato di vedere chissà chi e ma allora quello che ho sognato con le corna che mi voleva portare via e si vede che quella sera hai mangiato peperonata via bello può essere anche le melanzane ogni tanto lo fanno la sera sono pesantucce lo dico sempre e cerco sempre di spiegare al meglio ma a volte davvero mi viene proprio spontaneo commentare con prima di scrivere qualsiasi cosa assicurarsi che il cervello sia in funzione perché la natura e la biologia e la genetica terrena terrestre ci ha fornito di un encefalo ovvero cervello massa cerebrale che sarebbe in teoria atto al ragionamento e non alla ripetizione di ciò che abbiamo letto e sentito dire perché se no nascevamo papagalli o merli indiani io sarei nata merla indiana perché è tutto nero con il becco giallo come la poesia un merlo avevo con i suoi occhi d'oro cerchiati col palato e il becco giallo di cui di insetti e vermetti in serbo io nascondevo un tesoro o qualcosa del genere ora non ricordo bene comunque si chiama il merlo un merlo io avevo qualcosa del genere questa poesia l'ho studiata alle medie ma ho proprio avuto il flash un attimo parlando del merlo ma io sono più legata al corvo che però comunque è nero e va bene lo stesso il nero sta bene su tutto detto questo io spero di essere riuscita mirando in questa tematica a farla comprendere meglio ma in ogni caso anche se qualcuno di voi tanti di voi che mi seguono da tanto queste nozioni bene o male le avevano capite questo video serve a me così mi tengo il link e adesso ogni volta che qualcuno parte con ma quello lì è ciutulù io uso questo link copia e incollandolo come risposta e mi risparmio la gastrite duodenale a dover rispondere poi per iscritto ogni volta le stesse emerite cacate lady ghost e lady sadako risalutano io invece pure qua sotto tutti i link in fila ci cliccate sopra e ci entrate nei vari social dove mi trovate e un po' più sotto in fila ci cliccate sopra e ci entrate tre o quattro delle mille mille librerie che tengono in vendita i miei libri ad oggi sempre sette e chi vivrà vedrà ma a volte anche chi non vive vede lo stesso a prescindere c'ho le prove ciao